Lo stile è sempre venuto prima di tutto ed è probabilmente la cosa che attacca di più nella passione che poi è questa cultura qua chiamata hip hop eccetera eccetera L'essere originali, essere diversi, essere realmente un qualcosa di differente rispetto alla proposta piuttosto che a me l'hanno insegnato al muretto ed eravamo breaker, writer E quindi eravamo, qualsiasi cosa tu rappresentassi lo dovevi fare in un certo modo, essere unico, l'unicità era il valore realmente principale di questa cosa qua Vaccadon e Giovanni Fettini, un piacere, per L Magazine ragazzi finalmente, troppo tempo, dovete sapere che io e Ale ci conosciamo veramente da tantissimo tempo Ed è bello ritrovarsi anni dopo, però parlare sempre delle stesse cose Stessa passione Stessa passione Per cui vi chiedo subito Graveyard Dappies, da dove nasce l'idea del nome che adesso vediamo anche nel bellissimo merch Allora l'idea è mia, di un po' di tempo fa avevo trovato il nome, mi piaceva, la roba è giamaicana, ho detto prima o poi succederà qualcosa, ci faccio una crua Ho trovato sto giovane disponibile Esatto Perché cosa sta Dappies esattamente Fantasmi Fantasmi Nello specifico bro, la cosa che più può far capire meglio cos'è Dappies, comunque nella cultura caraibica, che è molto cara sia a me, lui perché proprio ci ha messo radici Io perché sono un fanboy della dance, lui lo sa, gli rompo sempre i coglioni sulla giamaica Però ad esempio su, vi presento Joe Black, la signora giamaicana vede Brad Pitt che incorpora un po' la morte e tutto quanto, gli dice Dappie, Dive, Lubia, che sono altri nomi Quindi è un po' lo spirito maligno o lo spettro che va a cacciare le persone o la morte in sé Ok, e questa idea di cimitero viene da senso No, in realtà quella roba di E' un disco super aperto anche da tutti i suoni, non è troppo spunto verso l'arc Esatto No, anzi è bello feliciotto, bello west coast La roba del cimitero nasce dal fatto che negli anni un po' esclusi, non puoi fare del vittimismo, ci siamo creati una roba un po' diversa Cioè poi il fatto di essere indipendenti da mille anni ci ha portato un po' a creare una situazione un po' diversa Se ne fotte di tutto ciò che accade nel mondo major eccetera eccetera Quindi è un po' il cimitero di quelli che, degli artisti che Ci hanno voluto male Sì, anti-clothes social club, proprio non c'è zero hype Perché proprio bro, per concludere proprio il discorso Cioè io comunque lo ringrazio sempre, lui lo sa, per il fatto di avermi proprio preso sotto la sua ale e portarmi avanti Però siamo due che, lui un po' di più, io un po' di meno, abbiamo avuto le nostre belle rotture di coglioni Siamo in piedi, abbiamo fatto un discone che ha zittito veramente tutti perché ce n'era un bel po' da zittire Sì, è quello il fantasma nel cimitero appunto, crearsi il cimitero a questa scena qua tra virgolette E i fantasmi sono quelli che non vedi, quindi tra virgolette noi, che però fanno paura Quindi in realtà Ed è un gesto di estrema libertà Sì, no, assolutamente Poter fare quello che si vuole fare Assolutamente, ma ripeto, zero hype e solo talento Cioè abbiamo, il progetto è uscito così senza nemmeno troppo spingere che cosa È uscita la notizia, abbiamo buttato fuori, come va, va, ci sono le barre Quello era il nostro intento Di fare il rap fatto come lo sapete fare Abbiamo già avuto ospite, abbiamo avuto due chiacchiere con Feddini Abbiamo parlato della sua maniera di intendere il rap Vedervi insieme in qualche maniera fa parte anche di una legacy Che va, che è viva indipendentemente dall'età, grafiche, no? Tu Ale sei più grande, più esperienza Assolutamente Giovane, Feddini, al di là del nome È giovane, è più giovane Più giovane, beh sicuramente Però c'è maniera di fare le cose insieme quando la direzione è unica Poi tu Ale hai avuto esperienze praticamente in tutto il mondo nel fare musica È stato tantissimo tempo in Giamaica Che cosa ti porti in quegli anni nella tua musica di adesso? Ma la mentalità penso che mi abbia forgiato lo star a Kingston Più dalla parte del pensiero che musicalmente attualmente Poi la passione per la dancehall, il reggae e tutto quanto rimane Però faccio altro in questo momento Sono più concentrato Però ripeto, la mentalità sicuramente in quei posti ti cambia Quindi anche il modo di vivere, di fare Di approcciarti con ciò che è la tua passione Che ti dà da mangiare in questo caso Quindi il nostro lavoro, la musica E' così Certo Capito, c'è quello E quello si fa C'è anche un tema delle periferie Che è interessante secondo me Noi? No Ah ok Non nel disco Ma delle periferie in generale culturali Tu sei nato in un posto di periferia Io sono cresciuto In tanti periferie diverse Kingston per tante cose È il centro della musica reggae, dancehall E peraltro è una periferia del mondo Perché è un posto difficile da raggiungere Dove c'è una cultura locale molto forte Ma che si interfaccia in maniera strana con l'esterno E in qualche maniera anche nella definizione di Dappies C'è la voglia di dire Siamo esclusi ma spacchiamo il culo Sì, se ti ho detto È una roba che tu non vedi Però fa paura La gente ha paura ai fantasmi Quindi non è incutere paura In termini di dover per farsa prevalere No assolutamente Far sentire la presenza Già che appunto si sente la presenza Intimorisci Quindi è quella roba lì È un po' come ci vedono da fuori Non è tanto come noi vogliamo essere rappresentati Capisci? È tutto E però puntate al centro Cioè siete talmente Venendo da fuori Puntate un po' al centro di questa cultura Sì Che tu incorpori in tante cose che fai Cioè mi ricordo il tuo passato In una crew che faceva anche writing Faccio il vrano Adesso faccio più che Yes L'ho visto con i miei occhi raga E tra l'altro Vuol dire riportare anche l'attenzione Verso qualcosa di più profondo ancora della musica No? Quello che sta dietro L'immaginario I tatuaggi Lo stile di vita Una maniera di portare gli occhiali Di muoversi Di essere Ma questa è tu lo sai bene Guarda Per favore Buon sempre Quadriamo Sottoculture Questa roba qui Soprattutto a gente che Che fa parte della mia generazione Quindi io tassano più o meno coetane Lo stile è sempre venuto prima di tutto Ed è probabilmente la cosa che attacca di più Nella passione Che poi è questa cultura qua Chiamata hip hop eccetera eccetera L'essere originali Essere diversi Essere realmente un qualcosa di differente Rispetto alla proposta Piuttosto che A me l'hanno insegnato al muretto Ed eravamo Breaker Writer E quindi eravamo Qualsiasi cosa tu rappresentassi Lo dovevi fare in un certo modo Essere unico L'unicità era il valore realmente Principale di questa cosa qua Ed era quello che i vecchi Sicuri, diversi Assolutamente Adesso invece tutto omologato Eccetera eccetera Noi siamo quello che siamo Siamo realmente Quando ti ho detto prima Anti-cloth Social club Perché proprio non ce ne frega Niente cazzo Noi siamo così Siamo cresciuti E fortunatamente Questa passione Mi dà da mangiare da ormai Quasi vent'anni Sì Quasi vent'anni Ma la tratto sempre come L'ossigeno Cioè io mi sveglio la mattina E faccio questo Cioè tutto ciò che nella giornata Io impiego in termini di tempo È dedicato la maggior parte A questa cosa qua Ma perché non mi pesa Chiaro È il mio sogno È quello che Io l'ho sempre detto Non è tanto Quello che tu concludi Poi O quello che tu Riesci a realizzare Quelle Quelle Fan parte Del Soddisfazione a livello Ego Capisci Però Il Il mio sogno È stato realizzato Realmente quando non mi dovevo più Svegliare la mattina Per andare a far qualcosa Che non mi piaceva sostanzialmente Adesso per me è tutta vacanza Anzi quando vado realmente in vacanza Dopo i due giorni mi rompo il cazzo Voglio andare in studio Perché non mi sento appagato Sai quando invecchi Che tu vedi magari i nonni Che continuano a lavorare Anche se sono in pensione È quella roba lì Quando ami una cosa La vuoi fare 24-7 Certo Ed è bello che tu abbia intercettato Questa Originalità Non c'eri In quel periodo Per forza Per una questione Una grafica un'altra volta Però La capisci E la porti avanti Certo Ma anche per il mio contesto In primi C'era dire Una cosa Per cui Io gli sono molto grato Lui ha capito subito Che tipo di persona sono Visto che sono una persona tranquilla Che non voglio rotture di coglioni Voglio solo fare le cose fatte bene Non sono di strada Io da dove vengo Non si può neanche definire quartiere Perché è letteralmente Bro Una zona industriale Un complesso di fabbriche Dove ci siamo La mia casa Altre quattro casette E prima di arrivare al paese Devi farti un quarto d'ora di camminata Quindi io sono proprio cresciuto in mezzo Al grigio delle fabbriche E proprio secondo me Anche per questo Io mi sono affascinato A una cultura colorata Isolana e viva Come i Caraibi L'hip hop New York Los Angeles E veramente Non ha mai cercato Di cambiarmi Ha visto tutte le mie sfaccettature E ha detto Spingi il più lontano possibile Questa è la cosa migliore Che poteva fare per me Guarda Entro Ne approfitto Della cosa Perché io vi consiglio Un disco Che ho fatto due anni e mezzo fa Sì Quindi trovare una persona Che non venisse dal quartiere Per me era uguale A meno problemi Quindi si può pensare realmente A far musica e basta Quindi proprio un ragazzo buono Un bravo ragazzo Che questa è la sua passione Quello fa Quindi ci siamo trovati Anche perché io Non ho più troppa voglia Di finire ancora In quel mondo lì di casini E tutto quanto Se mi dissi in questo momento Mi ascolto il dissing Rido un po' E penso alle mie robe Capisci Non ho cambiato un attimino pagina Giusto Anche perché per fortuna Una cosa che il disco dimostra È il fatto che io Non sia di strada Non significa Che non si possa portare Un sound Cazzuto e responsabile Perché Essere di strada È un conto Essere un uomo È comunque un'altra cosa Guarda Abbiamo parlato di Periferie Di provincia In una determinata maniera Periferie del mondo Credo che poi L'idea anche Di avere un suono Così fortemente Los Angelino Ci stia Dietro questa cosa Perché al di là Delle vostre passioni Musicali Sia un po' Anche la maniera Per racchiudere Tante sonorità Dentro la musica Per cui Chi è che si è occupato Della scelta Dei beat Delle produzioni Allora Allora La parte west coast Diciamo che arriva Più più Da me Perché è una roba Che faccio Anche i tuoi tempi Dei tempi Faccio quello che voglio Lui era presente Anche in VH Il mio primo disco In termini Che quello era il periodo C'era show off E tutto quanto E la passione Mia per quella roba lì Arriva dai tempi Il muretto Ai tempi Io mi ricordo Il giorno dopo In cui è morto Tupac Dove la gente al muretto Determinate persone Festeggiavano Perché lì Ai tempi C'erano proprio La divisione West coast E east coast Quindi Io già da piccolo Avevo questa cosa Avevo già preso Poi Essendo sardo Mi ricordo Un'intervista Di AL Forse la mia preferita Scritta dal buon Sid Mi ricordo anche questo Dove Dove si Narrava Di questo viaggio Ma come raccontava L'intervista di Sarrazza Di come veniva narrato Il tutto Per chi non conosceva Realmente Si era creato Un immaginario E anche nei loro confronti Si era creata Questa roba Che Altro che gang Di adesso Allora proprio Ma c'erano le robe dei cani C'erano duemila robe Io sono sardo Quindi questa cosa Del sole Della musica Californiana Mi ha sempre preso Lui Invece È più classico Per certi punti di vista Perché lui ama Far le robe Un attimino fuori Dal Dal normale Ecco Quindi io Ho tenuto la parte Ovest Però la cosa bella Della parte West Coast Che ha portato lui È stata un po' Una necessità Portata dagli eventi Perché lo possiamo proprio dire Noi inizialmente Stavo fornendo io i beat Perché comunque Avevo un sacco di giovani Produttori A cui volevo dare Diciamo la chance Qual era il problema Che è una cosa La galera La galera Perché è una cosa Che vogliamo È importante anche Per i giovani ragazzi Che ci ascoltano I sample Perché noi Giustamente anche In questa epoca nuova Con l'arrivo di Griselda Stiamo sottovalutando Però lui mi ha detto Guarda Io in passato Ho avuto Cazzi effettivi Dobbiamo essere sicuri Di sapere che Se prendiamo il sample Deve essere qualcosa Che non ha O è libero O è libero O non si prende O ce lo liberano Arriviamo a metà disco Diciamo Fermi tutti Facciamo un attimo Un controllo Cioè Veniva male Tre quartiere Le robe Erano da togliere E un 4-5 pezzi Li abbiamo rifatti Su West Coast E poi abbiamo detto No Tre bangeroni West E li abbiamo capito Il West comunque È un sound Nostro Perché è colorato Comunque c'è un tot di legame Anche con la cultura latina E È veloce Quindi È da auto Bro Che è una cosa importantissima Per noi È più lento Rispetto a New York Però Veloce Per come l'abbiamo trattato È più È più ballabile È più ballabile Capito Bro Quindi comunque È stata una situazione Portata dal corso degli eventi Ma che abbiamo Sfruttato a nostro favore Tu dici Il nuovo classicismo È più lento Rispetto a Però per tradizione Anche il flow usato È sempre stato più morbido Più lento Perché appunto Rappresentava il quotidiano Quindi Il California Te la vivi al mare Tranquillo Mentre New York È più come Milano Che è tutta frenetica Di conseguenza Anche la musica Rappresentasse Guarda Avevi i tempi È certo Era il contrario Adesso invece È il contrario Certo In effetti Un YG è il triple È sembra extra beat Rispetto a Griselda Che metti 70 Ci sono un sacco Di loop E di ricorsi Nella musica Sì in effetti Adesso che lui L'ho bloccato Però in effetti Non è Lui è arrivando Da più quest'epoca Che poi lui è super colto Quindi conosce anche Le cose del passato Però In quest'epoca New York è super lenta Cioè chi fa classic È lentissimo Perché vuoi Proprio lasciare spazio Allora Conway Che è proprio Il capostipide Dello solo flow Adesso Perché lui fa così Perché lui Proprio per la deformazione Che ha la mascella Quindi non è che riesce A spingere Su un certo tipo di beat Quindi deve andare Sempre su quella roba là E da Marchio di fabbrica suo È diventato Il marchio di fabbrica Di tutti Io personalmente Lo slow flow Non lo nascondo Così come le sporche Da ragazzino Mi ha forgiato Molto paskaman Ok Molto molto paskaman Quindi Perché io andavo Alle battle di freestyle Dovevo andare Contro la persona E al posto di fare Lo sghibidi ghibidi Io andavo Proprio paskaman Ghibidi sghibidi Padova Slangho Padova Per il core Perché fa Imity Limity Limity Kimici Invece alle battle Andavo Mega pausa La tua tipa Proprio alla paskaman E funzionava Poi è più comprensibile C'è anche un discorso Di comunicazione Dietro Qui diventa Diventa interessante Nel disco Tutte queste cose Si leggono C'è tutto C'è tutto E si vede anche Nella comunicazione Ho visto un po' Di video Nuovi Che state facendo Super semplici Infatti diretti Si vede Quest'attitudine Rilassata Prendersi tempi Arie Modo di comunicare Capito E dal vivo Come si trasforma Abbiamo fatto un live Un po' tragico Nel senso mio Perché avevo Tre live Da preparare Tutti e tre Diversi In una settimana Quindi le tanche Nostrano Io Tiro fuori tanta roba Quindi anche se Lo puoi ricordarsi Tutto quello che scrivo È quasi impossibile Quindi ero poco Diciamo che Non ero prontissimo Me la sono cavata Al limite Proprio Adesso dal mese prossimo Incominciamo con le date Quindi saremo preparati Lui ha fatto il suo dovere Grazie Adesso più che altro Cerchiamo anche di integrare Perché è bello portare Comunque Anche Esatto Anche per la cultura Di cui abbiamo parlato Adesso Sarebbe bello portare Le robe più classiche Mie Le robe più West Coast Sue passate Cioè fare un mix Chi sbaglia paga Con le robe nuove Cioè Sarebbe bello miscolare C'è tanta stratificazione No Poi anche nell'ottica Di farvi accompagnare Avete tante persone Intorno Che hanno Vi hanno Accompagnato Quindi anche dal vivo Mi immagino Che un po' di featuring Di persone Di amici Ci siano Sì Guarda Ti dico È una roba che Grazie a lui Nel senso che Io ho perso un po' Mi sono un po' Autoestraniato Dalla scena Quindi c'è il mio giro Di rapper E tutto quanto Però Nell'ultimo decennio Diciamo che Ho trattato poco Ste cose Va dai live Li faccio io Massimo Mi porto una persona Un ospite Se proprio Con lui Ho visto tutta la scena Sono arrivati tutti Anche gente che non doveva Repare È venuta Quindi è bello Che nella scena nuova Underground È proprio Non c'è questa competizione Se non sul beat Cioè Poi Si è realmente Amici E nessuno ha problemi A fare la roba Con gli altri Gli altri invece Sono tutti un attimino Problematici Si fanno loro i calcoli E tutto quanto Poi La resa è quella che è Invece questi rendono Perché sono proprio È bello che tu l'avete Una novità Questa cosa In fondo È una cosa che ci serve Sempre dovuta essere Sì però È andata persa Negli anni Cioè L'avvento Della trap Che ha salvato sicuramente In Italia Soprattutto Ha dato una rinfrescata Anche a noi Più grandi Ha dato la voglia Di rimattersi In competizione Con anche più giovani Eccetera eccetera La drill Tutto quanto Sono belle robe Perché tutto ciò Che accade All'interno della scena È positivo E poi appunto Era un periodo Anche che era abbastanza morta La cosa Con l'arrivato Sfera Quindi i meriti Vandati assolutamente A tutta quella Quella nuova scena Che ha portato realmente Poi al mainstream Tutti quanti Cioè Questo genere Soprattutto Dicendo Attaccandomi a quello Che dice Ale Ne parlavamo proprio Prima con Gigi Che è il ragazzo Che segue tutti i suoi live Il prossimo passo Di questo underground Comunque mega promettenti Che è un po' Quello che lui Sta cercando di fare Con me Arrivare al livello successivo Portarlo Come una situazione stabile Cioè che non sia Solo un movimento Di artisti così Ma riuscire Il più possibile A creare Una nicchia di mercato Una situazione solida E questo si può fare Solo con creatività Rischio E fiducia Perché nel senso Io bro Mi è piaciuto un sacco La rinfrescata Della trap Però ognuno Era a farsi il circoletto Adesso invece Ci sentiamo con i ragazzi Di Saronno Che ci sentono Con i ragazzi di Verona E come nel 2000 Come i primi 2000 Diciamo Che è una roba Che io ho vissuto Proprio nella fine Dall'adolescenza Vai a un posto E trovi quattro città Tutti nella stessa serata Così deve essere Adesso però bisogna Concretizzare Diciamo Esisterà un Graveyard Appis 2 Ma questo è proprio Il primo Dei mille volumi Sono anche già i titoli Guarda Te li posso Welcome to the graveyard The Appis in town Ce ne abbiamo mille Quindi è una roba Che Guarda È nato che Ci sarei sentito Un po' di mesi fa Lui mi voleva A beccare studio Sono sentito le robe Di stomato E ho detto Io voglio vedere Cosa fa Gli andati in studio Abbiamo tirato fuori Il primo pezzo One Blood One Shot E dopo poco Gli ho detto Se ci ribeccavamo In studio Abbiamo rifatto Un pezzo Poi continuavamo A beccarci a tempo libero E è uscito fuori Tutta questa roba Hanno certo Abbiamo un botto Facciamo qualcosa Mixtape E abbiamo tirato fuori Quest'album Però sì È il primo Sicuramente Di mille progetti Anche perché È diventata una crew Questa cosa C'è il buon Giccio Che oltre a produrre Produce E basta Produce No comunque Vogliamo salutare appunto Giccio E Marco Che hanno veramente Costruito il suono Los Angelino Stati caparbi Si sono messi là Con i sintoni E hanno veramente Dato una Una bella rinfrescata Cologno Fornia Cologno Fornia Minchia Bellissima Poi prossimo Penso ci sarà Il disco tuo Ma prima mi sa Il tuo Perché io Ci metto il tempo Che ci devo mettere Lui è molto Lui è ancora fresco Di test Ha fatto un terzo Dei pezzi Che ho io In catalogo Quindi Già un terzo Vuol dire tanti E ne avrò 600 E passa Quindi già 200 Per la sua età Direi che È più di quello Che due carriere O tre carriere Esatto Quello che ferma adesso Anche grazie al suo aiuto Adesso è tornare in studio Appena torna Rick Che è a Malta Con i ragazzi Che fanno Grime Ci imbetteremo Tutti quanti Gli dico Vada ragazzi Io ho questo progetto Questo, questo, questo E questo Cerchiamo di trovare Un senso A come far uscire Il tutto Grazie Era qui un mese fa Con voi Direi che il prossimo mese Lo rivedrete Scusa Però qui sarà un piacere Avervi ancora What up is due Ci vediamo magari Grazie Ragazzi Grazie per aver rappresentato Anche al buon Grazie Sempre dietro la camera Cortez Dietro la telecamera Allora Wallabisa Non a caso Marchio inglese Famoso in Jamaica Documentario bellissimo Andate però a recuperare Di Clarks Molto bello Una roba semplice Fatta bene Unisce anche quello A cultura street New Yorkese E Los Angelina A portarla a Milano È sempre bello Assolutamente Ma poi i ragazzini Adesso ti guardano Che cazzo c'è a piedi Loro non sanno Che comunque Nel pop La presa Le wall Abbiamo Dai Wu-Tanga Ma poi Non trovi Il rapper Tutti quanti Non faccio neanche la lista Perché tutti quanti Lì è proprio cultura In Jamaica Ha proprio Lo G Il bad man Il bad boy Alle Clarks Quindi Cioè per me è tipo Un po' come Giù al meridione La coppola Cioè se vedi una di quelle Vuol dire che stai parlando Con qualcuno Non uno scemo Ma quanto in Italia Invece sembra Guarda quello lì E invece Sotto culture Sotto messaggi Pian piano Pian piano Ciao guys Grazie A presto ancora A presto A presto